Buonasera, anch'io ringrazio dell'ospitalità e sono anche meravigliato da questa enorme biblioteca che veramente, ora che visito tante biblioteche ogni volta vi sorprendo della dimensione dei libri che ci sono nelle biblioteche del resto anche quando si va in libreria si è un po' da impressionarsi, come diceva Woody Allen loro sono tanti a scrivere, io sono da solo a leggerli in ogni caso ringrazio anche l'Ibc perché veramente, anche in questo caso in particolare io non avrei mai letto Giorgio Messori che non sapevo neanche che esistesse mi confondevo con quell'altro Messori che è tutta un'altra roba e leggendo questo libro in particolare quando ho cominciato a leggerlo ho detto mamma mia, devo leggere in pubblico non so neanche bene di cosa sta trattando questo libro perché, come dice lui adesso in premessa è un libro molto particolare che mette insieme la fotografia con la parola, la descrizione del paesaggio in un rapporto simbiotico e c'è una premessa, una breve premessa che è dello stesso Giorgio Messori che vi leggo questo libro è nato un'estate di qualche anno fa in un paese dell'Appennino Reggiano girando per quelle zone spopolate io e il fotografo Vittore Fossati abbiamo cominciato a prendere appunti su quel che vedevamo che era essenzialmente un paesaggio naturale perciò i nostri sono man mano diventati dei viaggi di istruzione perché nei luoghi cercavamo anche una consonanza con autori a cui chiedevamo di guidarci questi studi però abbiamo voluto riportarli all'aperto in quel teatro del mondo che è fatto di terra di mare di alberi di pietre le nuvole il cielo è stato questo il museo che abbiamo voluto visitare un museo naturale la nostra ambizione più profonda era di realizzare un libro illustrato sul paesaggio non ci interessava l'album di fotografia o un saggio corredato da immagini no volevamo un vero e proprio libro illustrato qualcosa che si potesse seguire leggendo e guardando cercando perciò di mettere in sintonia tempi e modi spesso così diverso qualcosa di simile lo ricordavamo da alcuni libri dell'infanzia e da pochissimi esempi letterari devo dire che ho sempre amato i rebus però non riesco quasi mai a risolverne uno ma questi accostamenti improbabili di immagini e di lettere mi affascinano e mi piace pensare che ci sia da scoprire un senso nascosto nel loro rapporto ci sono anche tanti quadri che mi sembrano di veri e propri rebus anche se non ci sono lettere sconnesse a complicarne la soluzione per non parlare dei tanti rebus che appaiono non appena guardiamo con attenzione il mondo cioè quel che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni ma per tornare ai rebus propriamente detti quelli che compaiono nell'enigmistica devo ammettere che le poche volte che sono riuscito a risolverli ero poi deluso perché le soluzioni erano sempre inferiori a ciò che l'immagine prometteva precedentemente a rebus risolto si svelava l'enigma e col mistero se ne andava via anche ciò che aveva reso interessante quell'immagine e quell'enigma perciò in questo mio gioco da rebus di dover inserire delle parole su un tessuto di immagini preesistenti utilizzando appunti presi in viaggio riminiscenze intime libri consultati per inseguire un'idea cercare un'altra strada in questo gioco di combinazioni enigmistiche non ho mai preteso di tradire la natura la naturale enigmaticità delle immagini che vedevo se mai dai tanti rebus mai risolti o irrisolvibili ho preso l'idea che immagini e parole possono in qualche modo combinarsi tra loro anche per aiutarsi a cercare un senso più nascosto che non sia immediatamente visibile questa è la premessa ora naturalmente qui abbiamo solo delle parole che io vi leggo non abbiamo le immagini quindi compito più arduo per me a illustrare queste parole e per voi per ascoltare immaginando quel che descrive da resto c'è un esempio proprio di Cesare Zavattini che è della vostra zona che descrive un'immagine potente per descrivere la nostra bassa che è abbastanza famoso lui dice questo vale per Reggio Emilia la bassa di Reggio Emilia vale anche per Ravenna la Romagna da cui io provengo la bassa e la bassa lui dice per illustrare il nostro panorama serve un foglio bianco e una matita si traccia una riga orizzontale sul foglio bianco quello è il nostro panorama io di mio aggiungo quinquala nebbia la matita non serve ed è un paesaggio un panorama anche quello ed ora il testo suo paesaggio terrestre attorno a Villa Minozzo devo dire che anch'io devo stare molto attento a quello che descrive perché la preziosità di questo scrittore è proprio nel rendere molto semplice un meccanismo molto complesso di compenetrazione tra le parole e quello che descrive che non è semplicemente la descrizione di cose che vede ma veramente come dice in premessa la compenetrazione anche sensoriale sensuale di un'immagine descritta con delle parole l'estate che ero a Villa Minozzo in un minuscolo appartamento preso in affitto dal veterinario del paese quando a ferragosto è venuto Vittore il fotografo a trovarmi e abbiamo cominciato ad andare in giro lui con la macchina fotografica io con un quaderno e la matita per esercitarsi a osservare il mondo che avevamo attorno fin dall'inizio ci siamo proposti di cercare un paesaggio terrestre perché ci eravamo detti che la maggior parte degli uomini quando guardano nella natura hanno in fondo davanti a sé lo stesso paesaggio almeno nelle sue linee essenziali sotto c'è la striscia verde e marrone che ha la terra sopra c'è il cielo azzurro o grigio a seconda prima ancora che un lavoro artistico la nostra ricerca le intendevamo come terapia un modo per esercitarci a non perdere la sensibilità a ciò che ci era attorno e provare ad accorgersi ancora del vento della pioggia delle pietre delle nuvole dei cani degli uomini come paesaggio e l'intento era di vederli tutti in uno stesso orizzonte senza particolari distinzioni come parti di un paesaggio rintracciabile in qualche luogo della terra in questo caso a Villa Minozzo tutto è partito dal territorio attorno al paese appunto di Villa Minozzo uno dei comuni più spopolati della provincia di Reggio Emilia ma anche uno dei comuni più vasti d'Italia addirittura il più vasto fino a pochi anni fa mi aveva detto Graziano che ricordava di averlo imparato a scuola qui la poca gente rimasta è sparsa in tante frazioni per vedere il paese affollato bisogna aspettare il giorno di mercato negli altri giorni non c'è mai tanta gente in giro neanche d'estate perché i turisti non vengono qua e al massimo rientrano le famiglie che sono andate via e hanno tenuto la casa il paese di Villa Minozzo non ha niente di pittoresco non è il tipico paesino di montagna che sembra subito un presepe le case vecchie si mischiano a costruzioni più moderne in modo alquanto casuale dal giornalaio le uniche cartoline sono foto in bianco e nero dove c'è sempre una 600 parcheggiata di volta in volta in una via del centro poi davanti alla scuola poi ancora accanto a un edificio appena fatto probabilmente era la macchina del fotografo che era andato in giro a fotografare il paese e fra l'altro questa 600 è l'unica macchina che si vede in queste vecchie fotografie insomma a Villa Minozzo non c'è niente e non si fa niente per attirare i turisti inoltre la terra che c'è intorno è stata per lo più abbandonata e sulle montagne ci sono parecchie frane come succede sempre quando si abbandona un territorio prima che arrivasse Vittore non andavo tanto in giro stavo quasi sempre a lavorare nel mio appartamentino d'affitto due vanni più bagno e ogni tanto uscivo per mangiare qualcosa alla Dina o da Graziano che ha un agriturismo appena fuori il paese Graziano lo conoscevo già da prima quando faceva l'orologiaio e abitavo a Reggio in città in una vecchia casa del centro poi aveva deciso di tornare al paese d'origine e aprire una piccola azienda agrituristica dove adesso trovano rifugio le persone più stravaganti della zona con loro Graziano ha formato anche un gruppo che si chiama Pericolo Giallo e di tanto in tanto si esibiscono in qualche farsa recitando in ottave Ariostesche come era nella tradizione dei Maggi che si facevano sulle montagne per riavocare le gesta di antichi cavalieri loro non raccontano di cavalieri preferiscono parlare di cose d'attualità ma uno di loro Maurino agli spettacoli si mette sempre di costume d'antico cavaliere e sguaina la spada sproloquiando al ritmo delle ottave e arrabbiandosi col mondo le serate da Graziano a volte erano parecchie movimentate ma per il resto vivevo nella quiete più assoluta anche ad andare in giro con Vittore a fare i nostri esercizi di osservazione non si incontrava quasi mai nessuno inoltre in quei giorni che giravo con Vittore venivano sempre dei temporali come spesso capita dopo il Ferragosto e il tempo era continuamente incerto così a camminare sui sentieri uno si infalgava tutto anche le fonti di Poiano dove prima si concentravano i pochi villeggianti che c'erano anche lì non c'era quasi più nessuno nessuno che si sdraiasse più sui prati sopra i sassi a prendere il sole niente le fonti di Poiano sono state la prima tappa delle nostre esplorazioni attorno a Villa Minozzo era appena piovuto e mentre eravamo lì e camminavamo lungo il Secchia in una bella vallata aperta nel silenzio della natura è nato il proposito di cercare di definire un paesaggio terrestre e l'idea che in fondo gli uomini vedono quasi tutti uno stesso paesaggio la linea dell'orizzonte con sotto la striscia verde marrone sopra l'azzurro del cielo per comporre l'immagine di un paesaggio terrestre bisognava sapere combinare questi elementi distribuirli bene nello spazio in queste vallate dei fiumi hanno un vantaggio immediato il corso del fiume indirizza lo sguardo in una prospettiva che è all'infinito tutto sembra subito comporsi in qualcosa da contemplare perché lo sguardo si focalizza nella fuga prospettica del fiume e i pensieri gli vanno dietro correndo assieme all'acqua che è nel fiume e così ci si può scordare anche di sé e perdersi nella visione della natura sovrana fin quasi a scomparire nel paesaggio fino a diventare fra virgolette una docile fibra dell'universo come diceva Ungaretti in una sua famosa poesia sui fiumi una docile fibra dell'universo se ogni tanto si fa atto di contemplazione ciò implica un annullamento di sé un abbattimento delle difese dell'io allora l'invenzione della prospettiva che impone un punto di vista fermo fisso tutto concentrato su un punto di fuga questa particolare visione può senz'altro favorire quell'immobilità che lievita un'estasi contemplativa il punto di fuga che da qui devo dire è anche molto profondo quando ci muoviamo nel mondo se camminiamo lungo un fiume con l'acqua che si perde in un punto imprecisato dell'orizzonte si può avere davvero l'impressione che tutto converga nel punto dove il fiume prosegue la sua corsa e i volume dei colli che lentamente digradano verso il corso del fiume dell'acqua disegnano la scansione geometrica di questa profondità quei giorni che andavamo in giro per le valate attorno a Villa Minozzo eravamo costantemente attratti dalle frane ce ne erano tante una anche sul greto del secchia vicino alle fonti di Poiano quasi completamente nascosta dalla vegetazione che cresceva lungo il fiume ogni frana è il disegno tangibile della terrestrità di quel paesaggio un nuovo ordine della natura che andava considerato senza fare troppi conti con l'opera dell'uomo in questo caso di frane ne abbiamo incontrate tante anche andando in Val d'Asta una delle valate più spopolate della zona fra l'altro Graziano mi diceva che da tanti anni c'è pure un gruppo politico che lotta per l'autonomia di quella valle vorrebbero una scissione dal comune di Villa Minozzo ma i secessionisti sono tutti troppo vecchi diceva Graziano non spaventano più nessuno e si prendono sempre quei pochi voti alle elezioni anzi i voti diminuiscono sempre perché ogni tanto muore qualcuno questo per dire che le frane sono il segno di una terra abbandonata ed era in questo abbandono che volevamo concentrare la nostra attenzione volevamo cercare un ordine per quanto possibile nel disordine fangoso delle frane se c'era un ordine a un certo punto è sorta la domanda su quali fossero i segni terrestri terrestri qui è fra virgolette ce lo siamo chiesti quando siamo tornati alle fonti di Poiano e da lì abbiamo risalito il Secchia a guardarsi attorno se non fosse stato per un ponte là sullo sfondo poteva essere qualsiasi epoca anche preistorica e lì abbiamo trovato legni bruciati sassi acqua piante selvatiche allora inoltre era estate e il fiume era molto basso così il greto era larghissimo e sui sassi si erano depositati tronchi arbusti tracinati dall'acqua ogni tanto tracce di fuochi perché era davvero un luogo ideale per i bivacchi uno di quegli spazi che la terra si inventa e che sembrano immediatamente abitabili andando avanti abbiamo trovato anche all'imbocco di un sentiero un piccolo cippo con la foto a colori di un uomo con i baffi non c'era niente c'era solo un nome no non c'era neanche il nome scusa non c'era nome non c'era data non c'era niente non c'era scritto niente c'erano solo dei fiori finti polverosi appoggiati lì sopra l'unica identità poteva essere data dalla foto di quell'uomo con i baffi che però Vittore non ha voluto fotografare e noi non conoscevamo sulla gazzetta di Reggio del 18 agosto c'era una notizia che ho voluto annotarmi perché riguardava il territorio che andavamo esplorando e anche con una strana coincidenza il terreno della nostra stessa ricerca la notizia diceva che due persone un vecchio contadino e un villeggiante nella notte di ferragosto avevano visto un UFO nel cielo di Ramiseto il giornale diceva che in montagna capita abbastanza spesso l'ultima volta era stato un elettricista di Cervarezza che in primavera aveva visto una navicella sul ventasso per spiegare cosa aveva visto il contadino di Ramiseto ha detto parole del giornale quindi fra virgolette mentre viaggiava la coda si sbriciolava lasciando cadere pezzi infuocati nella zona del castellaccio dalla finestra di casa mia dove mi trovavo ho avuto l'impressione che fosse caduto qualcosa di veramente strano sul castellaccio ora io dubito che il contadino si sia proprio espresso così comunque un paio di giorni dopo siamo voluti partire anche noi alla volta del castellaccio per vedere questi resti perché ci avevano detto che da lì c'era pure un bel panorama che si chiamava così per le rovine appunto di un castello da cui il castellaccio a Poiano abbiamo chiesto l'indicazione ad un contadino che ci ha detto di seguire una strada sterrata che passava dietro un cimitero e poi per sapere se valeva la pena andarci gli ho chiesto anche se era bello il castellaccio anche lui mi ha risposto boh a chi piace a me non dice niente comunque la strada non l'abbiamo trovata all'unico cimitero che abbiamo visto c'era una carraia che poi si interrompeva e così insomma scoraggiati non troppo curiosi del resto siamo tornati indietro rinunciando all'ufo ci era capitato altre volte di non riuscire a raggiungere dei luoghi seguendo le indicazioni di qualcuno del posto non abbiamo trovato neanche la cava di Ofiolite che ci aveva indicato Federico che è un geologo amico di Graziano un ragazzone grande e grosso che nel pericolo giallo si veste da chierichetto una sera ci aveva detto che dovevamo assolutamente andare alla cava di Ofiolite perché l'Ofiolite era una strana roccia porosa grigiastra e là sembrava di stare sulla luna su una luna grigia ma non so come neanche lì siamo riusciti ad arrivare a vedere l'Ofiolite forse perché una mappa non è mai un territorio come recita una celebre frase di Gregory Batson e noi non appartenevamo a quel territorio come Federico o Graziano o il contadino di Poiano potevamo solo andare avanti e indietro col piacere di esplorare perdersi ogni tanto fermarsi a trattere qualche cosa improvvisare insomma e così un po' alla volta ci costruivamo anche una mappa mentale fatta di immagini persone nome di luoghi pure di quelli mai visti come la cava di Ofiolite o il castellaccio che comunque in virtù del loro nome si imprimevano nella memoria quasi come un'esperienza vissuta un'immagine già vista la cava di Ofiolite il castellaccio anche voi ora state cercando di vederli si sa che noi riusciamo a vedere soprattutto grazie alle parole al linguaggio noi nominiamo le cose per poterle vedere ma la natura non ha bisogno di nomi ha scritto qualcuno le rocce non hanno bisogno della mia memoria e poi una mappa diceva Batson non è mai un territorio quando da cavola o cavola cavola da cavola siamo scesi ancora una volta verso il greto del secchia dalle parti di un'industria di ceramiche che sta scavando un bel pezzo di montagna abbiamo trovato delle ferraglie abbandonate arrugginite forse servite per mettere in piedi la fabbrica c'erano tra ricci una ruspa silos container così arrugginiti che si mimetizzavano bene con la natura intorno perché la ruggine aveva colorato le ferraglie di verde marrone giallo i colori terrestri la sera chiacchiarando con Vittore è saltato fuori l'idea che oggi per vedere Pompei così come potrebbe averla vista un viaggiatore del settecento bisogna andare a scovare vecchie fabbriche in rovina ferraglie abbandonate perché l'archeologia strappa inevitabilmente alla natura i reperti del passato e li sottrae così al loro destino di cose di materia ricordo che da bambino le visite al museo non mi facevano entrare mai in nessuna memoria una memoria l'ho invece scoperta la volta che ero andato con un amico nella vecchia cadente fabbrica della Monte Catini appena fuori dalla città girando in mezzo a quelle rovine annusavo il passato che mi appariva come un groviglio scuro inesplicabile immerso in un grande silenzio non era più come andare a casa di qualcuno come potevo credere entrando in un museo c'era un disordine che affascinava e impauriva mi emozionava e che comunque mi faceva sentire diverso in un'altra dimensione le rovine le cose abbandonate a sé ci aiutano a uscire da un tempo sempre preso da scadenze immediate dell'oggi da una quotidianità tiraneggiata dalle notizie che vogliono scandirci il passare di giorni le stagioni perché riconoscere la sovranità della natura che domina pure sui manufatti dell'uomo vuol dire entrare in un tempo più lungo che la nostra civiltà non sa più considerare a questo proposito il filosofo Michel Serret dice che questo tempo lungo è scomparso con la scomparsa o la rimozione di una memoria legata a chi viveva all'aperto immerso nel tempo esterno delle intemperie come il contadino o il marinaio la scomparsa di questa memoria produce per sé effetti ben più nocivi e incalcolabili dell'inquinamento che già infliggiamo all'aria la terra all'acqua perché anche perché la cosiddetta globalizzazione progettata nel chiuso degli uffici del potere si è dimostrata assolutamente incapace come si sa di considerare il pianeta terra quando invece un contadino sapeva bene di dovere sempre fare i conti con la sua terra ed era la terra che era a lui sovrana perché sapeva di non potere vivere senza di essa la custodiva bene quindi sono considerazioni quasi ovvie ma è molto efficace e profondo il modo in cui Michel Serret riesce a formularle dice fra virgolette se esiste un inquinamento materiale tecnico industriale che espone il tempo quella della pioggia e del vento a rischi concepibili ne esiste un altro invisibile che mette in pericolo il tempo che passa e trascorre un inquinamento culturale che abbiamo inflitto ai pensieri lunghi autentici guardiani della terra degli uomini e delle cose stesse chiuse virgolette stare nel tempo atmosferico nella pioggia che cade nel vento che soffia è sempre un modo per sfiorare anche la memoria di un tempo più lungo che forse una volta era patrimonio culturale di contadini e marinai e che è il tempo del tempo che passa e che può abitare solo la natura al bar di Sologno abbiamo trovato un calendario del 1995 con le immagini del fotografo svizzero Schoermeyer che intorno agli anni venti aveva girato a lungo per queste montagne in una foto del calendario era ritratta la famiglia del nonno del padrone del bar e il barista ci aveva spiegato che il telaio che si vedeva nella foto era nella stanza lì accanto accanto al bar quando lì non c'era ancora nessun bar perché quella era appunto la sua casa di famiglia e solo dopo la guerra ci avevano fatto l'osteria ad andare nei bar di queste minuscole frazioni e ad abbandonarsi al ritmo lento dei gesti del barista degli uomini che giocano a carte tutto il pomeriggio stando lì è facile ascoltare ancora memoria lontana come al bar di Carù dove il vecchio barista ci ha raccontato della guerra di quando su quelle quattro case avevano buttato due bombe enormi diceva che costavano più le bombe di tutte le case bombardate e ricordava che per terra una bomba aveva fatto un buco di undici metri di diametro e quattro di profondità nelle periferie del mondo la memoria di un tempo lungo fuori dal tempo delle notizie sembra ancora miracolosamente esistere sopravvissuta nel piacere di perdersi ancora nel tempo di un racconto una tappa obbligata delle nostre perillustrazioni è stato il lago Calamone al monte Ventasso uno dei luoghi più conosciuti della zona meta anche di campeggi scampagnate quando ci siamo arrivati stava scendendo la sera e l'acqua stagnante del lago rifletteva un cielo plumbeo in giro non c'era quasi nessuno solo il vociare indistinto di una famiglia che raccoglieva i resti di un picnic tutto il resto era fermo immobile e avevano steso anche dei sacchi di iuta perché il terriccio non smottasse nell'acqua ricordo che l'amico poeta Vince Fasciani che è nato sul lago Maggiore e da tanti anni abito a Ginevra sul lago Lemano aveva scritto una volta che il colore del lago è il colore dell'acqua morta perché non c'è l'energia viva che si vede nel mare nei fiumi che corrono e io stesso quando ho abitato per più di un anno sulle rive di un lago a Zurigo mi sono sentito a volte stregato da una stagnazione luttuosa funebre quasi fosse un miraggio lacustre e quando volevo rimettere in moto i pensieri preferivo passeggiare lungo il Limmat il fiume che sfocia nel lago proprio a Zurigo in centro e così mi dirigevo fuori dalla città per ritrovare l'energia di un fiume e rinfrescarmi i pensieri il lago però aiuta a fermarsi quando c'è bisogno di farlo e ritrovare così la quiete che possono dare anche i cimiteri di campagna perché i laghi hanno sempre una loro calma cimiteriale i rumori attutiti dell'acqua sembrano rispettare la consegna di un silenzio meditabondo malinconico che il lago sia un luogo di pace lo testimonia perfettamente Robert Balser che spesso terminava le sue passeggiade in riva al lago meglio se un laghetto apparso all'improvviso inatteso dove potere finalmente riposarsi se i suoi vagabondaggi vagabondaggi finivano sempre per avere un andamento ascensionale fino ad un progressivo annullamento di sé fino ad arrivare ad un'assoluta vaghezza il lago diventava allora la meta ideale il luogo dove concludere una passeggiata e immergersi nella luminosità stessa del cielo perché il lago è sempre anche un riflesso del cielo con cui si confonde quando arriva sul Grey Fensay un laghetto a pochi chilometri da Zurigo Balser dice che è virgolette è lago è bosco che lo cinge è cielo ma di un azzurro così tenero è un po' offuscato è acqua ma acqua così simile al cielo che può essere soltanto il cielo e questo soltanto acqua azzurra è dolce azzurra calda la quiete chiuse virgolette i primi mesi che ero a Zurigo abitavo in una casa su una collina da cui si poteva vedere il lago ricordo che nelle giornate piene di luce a stare in soggiorno dove c'era una grande vetrata era come avere in faccia il riverbo di una enorme stagnola di notte le luci della città si specchiavano ai margini di un enorme cratere nero allora leggevo spesso racconti di fantascienza e il lago ecco il lago era il mio ufo o meglio uno di quei posti dove il protagonista di una storia si trova capitato come per caso ma c'è una calma artificiale che lo inquieta preluglio di sciagure future a volte la quiete può giocare brutti scherzi fare sognare mostri catastrofi e forse non è un caso che Frankenstein sia stato concepito e scritto sulle rive del lago di Ginevra o che esista la leggenda del mostro di Loch Ness in un lago ma per tornare al tempo più naturale delle storie al tempo lungo dei racconti erano le serate da Graziano a offrire le migliori occasioni per ascoltare storie o antiche memorie che giravano per il paese c'erano storie di persone che conosciute ormai scomparse come quella di Mao soprannominato così per le sue idee politiche che da bambino Graziano ricordava di avere conosciuto personalmente questo Mao era un tipo grande e grosso e Graziano aveva sentito dire che da giovane aveva fatto il passatore cioè di mestiere visto che era molto robusto traghettava la gente che voleva oltrepassare il secchiello sulle spalle il secchiello è il torrente che si getta sul secchia e passa vicino al paese e poi naturalmente c'era la storia dell'anarchico Zambonini che fra l'altro è ricordato ancora da una lapide abusiva nella piazza del paese messa su qualche anno fa da Graziano e dei suoi del pericolo giallo durante un'occupazione del municipio l'occupazione l'avevano fatta per protestare che Zambonini comparisse in piazza solo nell'elenco dei civili caduti in guerra come se fosse morto per caso sotto le bombe o in un rastrellamento invece i fascisti erano andati a prenderlo a casa e lo avevano fucilato in quanto anarchico ma questo Zambonini proprio perché anarchico solitario non figurava tra gli arruolati nelle bande partigiane e così il comune lo aveva messo tra i civili di mestiere Zambonini faceva il mulattiere cioè guidava dei muli che servivano a portare dei pesi per chi ne avesse bisogno e una volta aveva aiutato il prete a traslocare e quella volta si era cercato di trattenere dal bestemmiare cosa che faceva abitualmente era un prete aveva rispetto del suo cliente ma quando a un certo punto i suoi muli si erano fermati e non c'era più verso di fargli andare avanti Zambonini dopo un po' aveva perso la pazienza e allora ha tirato quattro bestemmie forti e i muli sono subito ripartiti perché finalmente i muli avevano riconosciuto la voce e il tono giusto del loro padrone ah è lui via da Graziano c'era sempre il cane che si chiamava Luigi il cane Luigi che aveva una strana mania per i sassi un sasso poteva stare a fissarlo per delle ore in attesa che qualcuno glielo lanciasse poi lo riportava indietro si rimetteva a guardarlo per ore finché qualcuno per pietà non glielo rilanciava di nuovo le famiglie e le razze della natura si mischiano sempre non esistono pregiudizi o pulizie etniche in quel campo si possono anche intrecciare misteriose relazioni come quella che legava Zambonini ai suoi muri o il cane Luigi ai suoi sassi cioè un amico tra l'altro mi ha detto che in non so quale cultura i cani sono considerati psicopompi cioè conduttori di anime e allora guardando il cane che guardava i sassi mi piaceva ricordare un amico ormai scomparso che si chiamava proprio come il cane di Graziano Luigi e che è la persona a cui devo la maggior parte dei pensieri che qui cerco di tirare fuori e cui devo fra l'altro l'amicizia con Vittore visto che ci siamo conosciuti grazie a lui comunque quest'amico era il fotografo Luigi Ghirri facendo una volta il gioco di chi si vorrebbe essere se non si fosse uomini aveva detto che a lui sarebbe piaciuto essere un sasso una pietra e stare lì immobile nel tempo anche lui naturalmente intendeva sia il tempo che passa sia quello atmosferico perché tutto quello che ha fatto è un insegnamento a considerarli entrambi così ripensando all'amico guardavo con maggiore simpatia anche il cane Luigi mi immaginavo che il cane psicopompo e l'amico che non c'era più vivessero davvero nell'anima dei sassi e delle pietre e nel tempo che non finisce mai e che ci porta il vento la pioggia la pioggia che cade essere in un paesaggio terrestre vuol dire allora abitare anche la materialità delle cose essere nella pesantezza del mondo così andavano bene le frane i sassi il fango la terra i legni bruciati la ruggine ma era paesaggio terrestre eppure il mio appartementino ammobiliato con la tv in bianco e nero sopra il frigorifero e alla perete una madonna e la stampa col fiume le montagne il velluto marrone della poltrona la bombola del gas anche quella era terra paesaggio ricordo che ogni volta che il frigo si accendeva o spegneva scuoteva anche la vecchia tv a valvole abbassandole anche il volume e mi veniva in mente quel celebre detto sul battito d'ali di una farfalla che poi diventa un uragano il vantaggio di quell'appartementino ammobiliato era che le macchine della casa erano tutte vecchie e si concentravano in pochi punti era un ecosistema semplice e mi sembrava di non avere bisogno di altro questo è il racconto il primo un primo racconto di messori a cui può far seguito quest'altro racconto più breve intitolato a capri capri rappresenta anche storicamente uno dei luoghi più vicini all'isolo non trovata l'isolo che non c'è vale a dire la meta desiderata che sempre si insegue a cui si vorrebbe approdare ma non si arriva già duemila anni fa l'imperatore Tiberio trasferì qui a capri la sua corte perché qui si immaginava la Grecia dalla cui cultura pare fosse affascinato e infatti sull'isola la gente parlava il greco e anche l'isola stessa l'ambiente naturale il mare potevano risuonare di suggestioni greche forse a lui interessava anche proteggersi dagli occhi indiscreti di Roma per dedicarsi tranquillamente a perversi e spesso crudeli giochi erotici almeno a voler dar credito alle cronache di Svetonio e Tacito o forse ad Arretta Giovenale invece si è rintanato a Capri solo per stare col suo gregge di astrologi di maghi orientali fatto sta che mentre Gesù veniva messo in croce il sovrano assoluto di quel mondo si trovava su quest'isola con tutt'altro pensieri per la testa e dopo di lui e la sua Capri Greca ci sono state negli ultimi due secoli delle Capri tedesche Capri inglesi scandinave russe a prodi momentanei o definitivi di espatriati di mezzo Europa o mezzo mondo per molti è stata quasi una soglia sull'utopia l'approssimazione più vicina al luogo che appunto non c'è non esiste credo siano state soprattutto queste sirene a spingerci noi verso Capri dopo che già da un paio da anni avevamo considerato concluso il nostro viaggio naturalmente c'era anche la curiosità visto che nessuno di noi nessuno di noi due c'era mai stato a Capri non era dunque difficile rimanere ammaliati da questa da questa bellezza aveva scritto Walter Benjamin in una sua lettera da Capri virgolette è un fenomeno che si ripete in modo vistoso che persone che vengono qui per un tempo brevissimo non si decidano a ripartire e allora c'è chi si è costruito una casa magari sul ciglio di una scogliera che si è accontentato di monacali stanze dove lavorare in pace come lo stesso Benjamin chi si è rifugiato qualche anno in una villa progettando di edificare un altro mondo come ha fatto Maxim Gorky che si era creato un suo cenacolo di cospiratori e in un paio di occasioni ha ospitato anche Lenin è singolare fra l'altro che tuttora a Capri si trovi un monumento che ricorda Lenin quando ormai gli innumerevoli monumenti che lo ricordavano sono già stati tutti abbattuti ma qui anche Lenin può entrare a buon diritto in una parata di eccentriche celebrità è solo uno dei tanti confluiti in quest'isola e hai visto che da qua sembra davvero uno dei tanti innamorato di una sua utopia dato che in questo luogo anche l'utopia sembra avere diritti di cittadinanza difficile dire per quali misteriose ragioni si siano verificate queste confluenze con comitanze a volte incongrue in un luogo che fra l'altro non è neanche tanto vasto visto che l'isola si gira comodamente tutta a piedi un viaggiatore del nostro tempo Bruce Chatwin naturalmente è capitato anche lui a Capri ha scritto che fino ai tempi moderni è persistita l'illusione che il grande dio Pan dal piede caprino non fosse morto del tutto che Capri fosse ancora un paradiso pagano in un mare cattolico si pensi che perfino al patrono dell'isola un certo San Costanzo che era stato vescovo di Bisanzio è legato a una leggenda che lo vuole avere del vino insieme a Dioniso e dallo stesso dio avrebbe poi ricevuto in dono un traliccio di vite da portare all'isola che da allora ha infatti coperta di lussureggianti vigneti ovviamente una leggenda ma pare sia verosimile che le spoglie del santo trafugate da Bisanzio siano in effetti arrivate a Capri nascoste in una botte da vino dunque a Capri si può davvero situare quella doppia natura ancora irrisolta nelle dispute attorno all'imperatore Tiberio una sensualità pagana orgiastica nutrita dal sole e dal vino dall'eventuale disponibilità di giovani e giovinette e dall'altra parte una tendenza alla contemplazione favorita dall'incanto degli innumerevoli panorami che potevano affascinare il misantropo Tiberio fuggito dal chiasso di Roma per rifugiarsi qui coi suoi maghi orientali forse Tiberio era semplicemente per lui erano entrambe le cose vecchio satiro vizioso come ce lo dipingono Svetogno e Tacito e allo stesso tempo misantropo ossessionato dalla sua ansia ad infinito come volevano giovenare ed anche molti degli storici più recenti inoltre questa doppia natura sembra attagliarsi pure ad altri illustri abitatori che hanno trovato qui di mora perché credo che l'ansia di infinito la sensualità più libera più sfrenata siano da sempre i fondamentali attributi della bellezza che quando si manifesta ci appare appunto come presagio e soglia dell'incommensurabile ma anche disponibilità ad una felicità immediata che può facilmente deviare nell'edonismo più morboso per questo credo la bellezza è qualcosa che è meglio gustare a piccole dosi un'apparizione fugace e via perché questa è la sua natura della bellezza il suo incanto illusorio il suo canto di sirena in effetti non ho mai desiderato abitare in un posto troppo bello avrei paura di esserne annientato sfibrato certo ripensando a tutte le tappe del nostro viaggio capri risalta di un particolare splendore e non solo perché il suo ricordo è quello più recente ma è anche vero che lì si si avvicina fin troppo all'eden al paradiso perduto così la mia educazione cattolica mi risveglia il timore del frutto proibito la paura di avvicinarsi troppo al nocciolo del mistero quello che comunque interessava a noi era di trovare questi presagi dell'incommensurabile un incommensurabile che qui naturalmente si perde nell'orizzonte del mare da sempre la visione più disponibile che gli uomini hanno trovato sulla terra per immaginare l'infinito e il mare appare in scenari davvero sorprendenti affacciandosi dalle tante scogliere di capri naturalmente anche l'infinito che ci figuriamo nell'orizzonte del mare per poter o meglio immaginare le necessite però di una soglia come ci ha ben insegnato la siepe di Leopardi così il profilo geologico dell'isola le rocce scoscese favoriscono questa immaginazione senz'altro meglio che non una spiaggia larga e piatta perché l'infinito non è uno spazio in cui si sta all'infinito ci si può solo affacciare deve essere un'apparizione una sorpresa che turba come era per Leopardi nel corso dei nostri viaggi Vittore mi diceva spesso che a lui non interessava fare fotografie bensì cercare delle immagini che è altra cosa se però si cercano immagini e si cercano immagini nella fotografia non si può certo prescindere dalle apparizioni fugaci di bellezza che devono per forza situarsi da qualche parte in qualche luogo nella fotografia si può solo rimanere nell'immanenza del creato non c'è spazio per fantasie che esulinò da questa immanenza in questo senso la fotografia si può imparentare alla poesia che fra le forme espressive è quella che mi sembra più vicina a questo destino di immanenza di fugacità a questo proposito mi piace ricordare che a Capri ha stazionato per un po' anche Rainer Maria Rilke il poeta che nel secolo appena trascorso è quello che forse si è più avvicinato alle inquietudini e rabonde del Petrarca come lui ossessionato da non sapere mai trovare un dove sempre combattuto fra l'aspirazione salvifica dell'ascesi e la consapevolezza che questa non può che situarsi nelle cose terrene il soggiorno Caprese di Rilke è documentato da pagine di diario lettere testimonianze di amici conoscenti ma soprattutto da una poesia che è poi entrata nella seconda parte delle nuove poesie che qui vorrei ricordare questa poesia si intitola Canto del mare ed è stata composta a Marina Piccola in una notte d'inverno ed essa dice a un certo punto soffio antichissimo del mare che spiri quasi solo per rocce primordiali nient'altro che spazio trascinando con te da lontano come si vede sono anche versi semplici che nell'originale tedesco però contengono una sfumatura difficile da cogliere in traduzione che è impossibile tradurre in italiano perché il soffio del mare è antichissimo che in tedesco è Uraltes un aggettivo che ha lo stesso prefisso Ur delle rocce primordiali che è Urgestein e il prefisso Ur in tedesco sta sempre a indicare un'origine una forma primigenia questo perché anche l'Eden per noi non può che avere una sua origine storica seppure perduta nella notte dei tempi non potremmo immaginarcelo altrimenti così ci possono essere ancora delle forme in natura tipo le rocce scoscese e imperturbabili di fronte al mare che più facilmente ci evocano questo mondo primigenio se poi questo mondo non vogliamo chiamarlo Eden allora ci possono soccorrere i miti fondatori della nostra cultura erano appunto disponibili e ben visibili molti elementi greci quasi un enclave di quel mondo pagano che ricordava Chatwin qui quando gli dèi erano più vicini agli uomini e si divertivano quasi a giocare con loro assieme a loro con la natura quando ero a Capri nel tempo incerto di gennaio non era davvero difficile per dire sentire la forza del mare cioè Poseidone che si infrangeva sulle scogliere le rocce primordiali percosse da un vento eolo che spazzava il cielo lo ingombrava di nubi e sullo sfondo il pennacchio del vulcano Efesto a chiudere l'azzurra lontananza del golfo ecco quando alcune scenografie naturali risvegliano un'immaginazione delle origini allora accade che queste non si presentino sotto il segno del caos primordiale bensì in quella forma di ordine compiutezza che riconosciamo nei miti le origini sono dunque la perfezione la totalità poi viene il caos il mondo frammentato cioè la realtà e quando si parla di funzione mitopoietica dell'arte della poesia si intende proprio il compito di dare ordine e compiutezza al mondo frammentato ad una realtà altrimenti caotica perciò non si tratta mai di descrivere la realtà o come direbbe Vittore fare fotografie bisogna piuttosto rintracciare nella realtà quelle matrici simboliche che ci permettono di percepire una struttura compositiva della realtà stessa cioè quasi un suo stato embrionale originario cos'erano se non matrici simboliche i famosi cubi coni e sfere che Cézanne ha inseguito per tutta la vita oppure le colonne statue greche alternate a manichini e ciminiere nelle composizioni di De Chirico a Capri questi elementi simbolici sono rinvenibili negli incantevoli scenari di rocce strapiombo sul mare nei tanti giardini parchi nelle campagne curate come dei giardini nei reperti archeologici compenetrati nell'ambiente che li ospita a volte passeggiando per l'isola si ha quasi la sensazione che questi diversi elementi seguono una partitura musicale tanto seppientemente sono distribuiti nello spazio e allora può capitare di arrendersi semplicemente alla forza delle immagini come se queste potessero appagare ogni desiderio e aderire anche a quel che non si sapeva neppure di stare cercando a ripensare a tutti i nostri viaggi consumati a guardare frane cave rocce specchi d'acqua cericangianti a ripensarli adesso mi chiedo cosa possa averci spinto a girare dall'Appennino alla Pomerania per finire poi incerti e inconsapevoli sopra un'isola del Mediterraneo forse ad animarci c'era proprio l'illusione che il dio Pan non fosse morto del tutto che cioè ad ascoltarla contemplarla la natura potesse ancora regalarci una riconciliazione almeno momentanea se non una nuova alleanza come nel meraviglioso ed enigmatico cantico dei cantici è probabile che la terra promessa l'utopia non siano che distrazione della memoria distrazione della storia momenti appunto non una durata ma rimangono pur sempre l'unico luogo l'unica ipotesi a cui affidare le speranze di risveglio di una sensibilità altrimenti cieca atrofizzata ovviamente questi non possono che essere appunti dei momenti degli istanti più o meno lunghi felici perché la natura e la vita ci insegnano anche l'impermanenza di ogni stato del mondo una impermanenza che è il limite e al tempo stesso la ricchezza di ogni nostro sentire l'impermanenza salvatico è colui che ci salva così recitava una frase di Leonardo da Vinci scritta all'ingresso di una casupola bianca all'approdo dei faraglioni questo motto mi è subito piaciuto perché poteva adattarsi anche alle intenzioni inespresse del nostro viaggio salvatico è colui che si salva erano infatti poche e concise parole che indicavano una via di salvezza nel riscoprire una creaturalità che si realizza solo perdendosi nella natura che poi siano selve oscure limiti boschivi orizzonti aperti sul mare non ha grande importanza l'importante è riconoscere che in fondo il mondo non avrebbe bisogno di noi e che però noi possiamo essere testimoni di una compiutezza che non ci appartiene ma che a volte si può anche rivelare straordinariamente vicina amichevolmente vicina grazie 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 grazie